Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono qua vicino a voi, oggi non vedrete me stessa perché andremo a fare un decluttering back to school ragazzi ho visto questo video da una ragazza di cui vi lascio il link qua sotto nell'info box mi è piaciuto e l'altro giorno stavo per riordinare tutto ragazzi, c'ho un gran casino e ho detto perché non farlo con le ragazze, primo video back to school e quindi eccomi qua, noi andremo a vedere più o meno quello che ho a buttare quello che non va più bene, a riordinare in scatole, a decidere cosa terrò e tutte queste cose qua quindi la prima cosa che voglio fare è andare a eliminare da questo porto evidenziatori nuovo tutti gli evidenziatori che ho già li metto da una parte in modo tale che prima finisco quelli che ho già iniziato e poi comincerò a utilizzare quelli nuovi, ad esempio qua ne ho due pastello, no? quindi inserisco e questi due li metto da parte qua ne ho uno arancio pastello, questi sono tutti gli stabilo e poi ad esempio qua ho questo rosso da finire, quindi l'ovario lo cambio, poi qui ho tutti dei Faber Caster, questi ragazzi funzionano perché ci sto preparando un esame ora quindi sono sicura che vadano bene allora in realtà qua ho una scatola enorme piena di roba potremmo rovesciarla tutta così tutta la roba la andrò a mettere in questa scatola qua cominciando dagli evidenziatori tutti questi foglietti ragazzi sono delle cose inutili che andremo a scartare poi questi nastri li terrò da parte ma solo per fare foto varie o quanto altro come questi fiocchetti man mano che li incontro non si sa mai che mi venga in mente qualcosa ma non devono stare qua sicuramente allora vediamo questo lo mettiamo un attimo da parte ah ce ne ho uno rosa come potete notare sostituiamo pure lui e mettiamolo un attimo da parte cominciamo un attimo a vedere tipo questo bianchetto che cosa è? funziona ancora ragazzi quindi questo lo teniamo tutte queste scartoffie le buttiamo che non ce ne facciamo nulla questo fil di ferro oro non deve stare qua va nella restante roba che utilizzo per fare decorazione e quanto altro e le matite le prendiamo perché ancora sono utilizzabili ma ovviamente non devono stare qua perché io non utilizzo matite all'università meno che non debba colorare comunque non le tengo qua iniziamo tratto pen pennera all'arancione questi sono spettacolari ragazzi funzionano benissimo hanno una punta finissima proverò con voi ovviamente e la roba che va la tengo sapete quanto io sia fanatica di cartoleria questo qua non va più quindi lo cestiniamo tutte le matite le andrò a tenere tutte ma le metterò da parte perché ad esempio queste dell'Egitto le userò solo a scopo ricreativo perché non mi piacciono quindi non le userò sicuramente per l'università qui abbiamo delle altre matite queste cose a caso inutili le andiamo a buttare che non servono qui abbiamo una penna che non funziona più anzi mi ha bucato il foglio un pennarello oro che va ma non deve stare nella roba dell'università perché non c'entra questi pennarelli invece li uso questo non va più quindi lo buttiamo matita dell'Egitto questi ragazzi sono degli Sadler made in Germany non sono malaccio ma non sono neanche tra i miei preferiti comunque vanno e sicuramente li finirò di usare ce li ho di tantissimi colori queste no raga sono quelle penne cancellabili sto male le metto da parte solo per ricordo questa penna di Diddle credo non vada più infatti immaginavo e la butteremo questo è un altro tratto pen nero che non va e lo buttiamo ragazzi ma che sgombero devo fare tratto pen marrone lo teniamo pennarello azzurro lo buttiamo questo qua raga è vecchissima infatti immaginavo me l'avevano data a una gara di sci alla quale ero andata davvero vecchissima un'altra matita altre matite dell'Egitto queste pian piano raga che le trovo le metto da parte perché sceglierò i cassetti appositi questi qua della stabilo questi penarelli a punta grossa raga sono bellissimi li uso un sacco per scrivere i titoli quindi speriamo vadano tutti qui abbiamo gli stabilo a punta fina 0,4 bellissimi anche questi per fare le cose di precisione quindi li tengo tutti quelli che ovviamente vanno questa è vecchissima ragazzi infatti non va quasi più e la buttiamo questo va oddio raga che casino un altro bianchetto io raga in realtà non uso il bianchetto infatti quell'altro lo regalerò a mio padre questo è secco e lo buttiamo altre matite questi sono tutti i penarellini della stabilo scusatemi punta 0,4 che appunto spero vadano tutti perché sono davvero super 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 belli un po' chiari ma belli questa è una penna in gel che infatti è troppo vecchia questi sono pennarelli che vi ho già fatto vedere si raga sono abbastanza malata di cartoleria questo ovviamente lo buttiamo soliti fiocchetti che mettiamo da parte oh qui c'è una chiavetta che cercavo da molto quindi finalmente l'ho ritrovata vedete che i decluttering servono speriamo che questo tratto pennero vada non va perfetto ciao ciao ah queste sono le forbici dove ci si può cambiare la punta e queste delle forbici giganti e le metterò in un cassetto a parte perché non uso forbici all'università queste penne della flex di cosa sono? poppermate sono meravigliose e fortunatamente va e la tengo questo poveretto non ne vuole più mezza questo evidenziatore dovrebbe andare molto bene perché gli evidenziatori questi qua a me piacciono un sacco quindi perfetto questi penarelli erano di tiger ragazzi non li ricomprerò perché non ne va più neanche uno e non sono neanche così vecchi qua cosa sta succedendo cioè vi rendete conto la penna del tatto il tappo della penna di didol che ho buttato e questo pennarello vabbè buttiamo tutto raga non vi consiglio assolutamente questi qua di tiger mi pare che li ho presi l'anno scorso costavano pochissimo quindi in realtà se li volete prendere solo per fizzio ci sta però non vanno più neanche uno ed erano tutti coperti cioè guardate non ne va neanche uno no questo è vecchissimo se va oddio ma questo avrà tipo otto anni e infatti qua non va più immaginavo come mi sto liberando ragazzi questi pennarelli della stabilo li adoro per scrivere i titoli e sottolineare sono quelli a punta pen 68 quindi quelli a punta più grossa e li teniamo tutti questa penna va ancora ma la do ai miei genitori perché io non uso le penne tipo quelle che ti regalano in banca quella roba lì poi questa penna è orribile infatti meno male non va più cioè scrive malissimo ragazzi non so neanche di cosa sia la cestiniamo questa qua mi piaceva un sacco quando ero piccolina perché di un azzurro vedete bellissimo però ormai non va più qui abbiamo una bic nera che va le bic non finiscono mai questo non va più questi qua della stabile in effetti ce li ho da un po' queste sono matite ma quante matite dell'egitto ho raga questi sono dei gessi credo gessi e non devono stare qui poi queste sono tutte cose che utilizzo per fare i pacchetti e non devono stare sicuramente tra la roba dell'università questo era il solito cassetto raga in cui cacciavo di tutto queste sono le penne a mina ce ne ho anche un'altra da qualche parte di tiger queste mi piacciono molto e vanno a mina quindi sono matite a mina e quindi vanno di conseguenza qui abbiamo oddio ah questi sono i pennelli mala di ikea mi piacciono tantissimo tanto che ne ho anche già comprato un pacco nuovo li uso tutto tutto l'anno e durano un sacco quindi li terrò oh questo giallo va ancora questo lo bottiamo questi erano tra i miei pennellini raga preferiti questi qua sono bellissimi ma ora avranno cent'anni queste matite sono di tiger mi piacciono molto purtroppo si stacca vedete la pellicolina fuori e quindi dopo perdono tutto tutti i brillantini quindi questa rossa la teniamo questa azzurra non lo so questo mi piace tantissimo stabilo pen 68 neon raga sono bellissimi li uso sempre e questo lo metto da parte perché lo sto usando ora per studiare insieme a questo penarello della tratto video fucsia che quindi mettiamo da parte e insieme al tratto pen 86 questo qua verde anche questo guardate mi piace tantissimo per fare diciamo delle delle indicazioni particolari perché ha un colore verde scuro che spicca bene quindi lo uso qui abbiamo un altro stabilo point che non va più quindi lo buttiamo queste matite mi piacciono molto hb general writing prima e sono belle grosse però mi piacciono quindi le tengo quindi altra matita altro tratto pen e questo va un azzurro bellissimo ragazzi questo qua ve lo consiglio questo azzurro se siete amanti di cartoleria poi abbiamo un altro mala giallo e anche questo va ancora e ma il bianchetto non l'avevamo già eliminato vabbè questo lo devo dare a mio babbo abbiamo detto un altro bianchetto anche questo è secco quindi da buttare una gomma questa serve sempre una pinzatrice serve sempre ma non deve stare qua questa è di tiger carinissima rosa poi abbiamo questa penna questa è una matita che secondo me va a mina ma le mine vanno inserite lì dentro quindi la devo aggiustare ma è dell'architetto mina05 quindi questa è molto buona poi abbiamo questi aggeggini quando mi ero fissata con l'agenda e li terrò per fare decorazioni varie foto quanto altro ma non di sicuro nella roba per l'università poi ecco l'altra matita mina di tiger qui abbiamo una colla pritt che poveretta cioè in realtà ce n'è ancora ma la dorò mio babbo che le usa ancora queste cose mentre io non le uso più quindi a me non serve queste graffette enormi queste le uso per le università per mantenere tanti fogli insieme queste sono di tiger mi piacciono molto quindi le terrò qui abbiamo un altro di questi pennarelli che non va più quelli che non vi consigliamo questi qua della stabilo sono dei buoni evidenziatori non sono tra i migliori ma sono buoni quindi lo tengo abbiamo queste penne scusatemi della paper mate secondo me sono tra le migliori in assoluto me le ha fatte scoprire mia mamma e queste verde ormai poverette vecchia non va più quindi la eliminiamo adoro questo colore stabilo pen 68 questo viola qua è meraviglioso ragazzi spero vada ancora e va meno male grazie qui abbiamo tutte delle cose da buttare i fiocchettini queste sono le solite penne che vi dico danno nei ristoranti quelle cose lì che funzionano quindi le darò ai miei questa non funziona quindi la buttiamo però io non le uso qui c'è un altro tratto penne verde scuro questo è agli sgoccioli però ancora lo possiamo usare qui abbiamo una matita ah queste sono delle matite invece quelle di tiger che uso all'università quindi questa la terrò un'altra gomma standler secondo me le migliori gomme in commercio quindi la terrò qui abbiamo un sacco di penne bic che io ho il vizio ragazzi ve lo dico di morderle in cima come potete notare però queste funzionano sempre quindi questa va e le aggiungiamo un tappo sparso che abbiamo qua questa va queste ovviamente le tengo tutte sono le mie penne dopo le paper made preferite questa rossa va me lo ricordo perché lo sto usando per l'esame poi questa nera va cioè raga giriamo il foglio questa la buttiamo questa la buttiamo questa blu la teniamo stabilo point grigio e va questa ragazzi era di un natale tipo di 6-7-8 anni fa quindi direi che è giunta la sua ora una matita che mettiamo da parte solite penne che io non uso e questa non va più la elimineremo post it e questo ovviamente lo teniamo questo è il biadesivo lo teniamo ovviamente ma non deve stare tra la roba dell'università come non deve stare tra la roba dell'università né questa bucatrice questo è il bucafogli e né questa bucatrice quindi le mettiamo da una parte qui abbiamo dei timbri io direi che ormai no un pochino va fanno dei cuoricini vabbè li teniamo ma da una parte non ovviamente con la roba dell'università ah questi ragazzi sono di tiger è vero questo è sempre di tiger questo lo uso per l'università per appuntare tutti i fogli quindi lo teniamo tutte queste graffettine le metterò da una parte questa penna è lo kitty sanrio sarà costata una follia io ero fissata da piccola va ancora ragazzi ma la regalerò a mia madre perché a me non piace questo colore metallizzato vedete che è metallizzato e a me non piace molto qui ho invece dei punti per le pinzatrici e questi invece li terrò ovviamente per la pinzatrice che vi ho fatto vedere un'altra gomma che ovviamente teniamo la matita queste sono le germany le mie preferite rosse hb quindi la teniamo un tratto per rosso che fortunatamente va le mine per le matite che ovviamente teniamo questa penna brio era di un astuccio di quando ero mi pare l'elementare infatti non va più poveretta poi qua abbiamo un'altra matita tutta mezza smangiucchiata perché ho questo problema ragazzi mentre studio però va ancora quindi non sprechiamo niente e un mala dell'ikea che non va più bene ragazzi come notate non ha un colore netto però lo finiamo di usare ultimi due scomparti iniziamo da questo abbiamo dei post-it della post-it non mi piacciono molto questi raga ma ormai li finiremo quindi le tengo tutte le matite di cui vi parlavo le teniamo tutte e altre matite di tiger di cui già vi parlavo e le teniamo ovviamente tutte qui abbiamo degli evidenziatori vari queste sono le mie forbici dell'università ragazzi di tiger con i brillantini le adoro iniziamo a provare un po' di evidenziatori questi sono gli stabilo i faber castel che mi piacciono da impazzire i tratto video che vi ho già detto mi piacciono pure loro tra i miei preferiti credo che ci siano i faber castel boh non lo so in verità faber castel tratto video e stabilo sono buoni tutti quindi fortunatamente questi evidenziatori vanno ancora tutti bene matita 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 dell'egitto questo stabilo va ancora molto bene questa paper made viola che è come quella che vi ho fatto vedere prima arancione e fortunatamente va stabilo green point hanno la punta grossissima sono meravigliosi fortuna va qui abbiamo matite varie che ovviamente terrò sono ancora intere poi abbiamo ah questi non mi piacciono per niente gli stabilo neon sono davvero scomodi ce lo finirò ma è davvero scomodo da utilizzare e neanche questi della marca buffetti non mi fanno impazzire ma ormai li finirò ovviamente questi sono gli stabilo pastel azzurrino e violaceo vanno ancora quindi li vado a sostituire con quei due nuovi della scatola degli stabilo qua c'è qualcosa ah una matita queste ragazzi sono tutte matite che finirò ovviamente di utilizzare perché mi piacciono tutte quindi le finirò ci sono degli altri pennarelli mala nero e marrone e vanno solite penne che io non uso questa è spaccata quindi la butteremo queste sono di tiger a me non fanno impazzire ma a mamma piacciono quindi gliela regalo poi qui vabbè un oggettino che butteremo questi li uso un sacco per l'università graffette grandi e porta cose di tiger a freccetta quindi li tengo qui abbiamo le altre solite 250.000 la bic questa va 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 e va un'altra bic un tappo di una bic che metteremo a una bic a questa ragazza di mio padre gliela devo ridare questo pennarello credo sia quello per scrivere sulla lavagna di tiger quindi lo tengo ma non tra la roba dell'università un altro stabilo una penna di un ristorante cinese che sta andando quindi la buttiamo matita post-it questi mi piacciono già di più ma non mi ricordo credo fossero della carefour ovviamente li teniamo un'altra gomma che teniamo post-it penna blu che teniamo e qui abbiamo un pennarello bianco di quella a punta grossa che perde solo del liquido quindi ciao ciao ultimo cassetto ragazzi è questo cofanetto qua e di solito ci tenevo i post-it e dovrà tornare ad essere i porta post-it ovviamente tutti i miei post-it li tengo ragazzi questi sono tutti tutti della post-it questi piccoli non sono molto comidi però li finirò di utilizzare post-it una vinavil che la darò a mio padre perché io non le uso più un righello di cartone che mi ha accompagnato quando Ale me l'aveva rubato ma fortunatamente ci ha rubato insomma avete capito me l'aveva preso e quindi l'ho comprato nuovo di conseguenza lo possiamo buttare finalmente una calamita a forma di cuore che non va qua ma negli oggetti per foto tutti 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 degli altri post-it ragazzi questi li utilizzo per cose varie comunque li tengo post-it questi ragazzi sono tutti dei post-it lo so sono abbastanza fanatica questi raga li butto perché sono osceni tutti i pennarelli mala dell'ikea che vi dicevo adoro quindi tutti quelli che vanno li teniamo cioè vedete questi sono spaziali vanno ancora questo rosso no e lo buttiamo l'arancione lo buttiamo e il viola lo buttiamo matita che terremo ciappetti di babbo natale che non devono stare qua ma li uso per i pacchetti di natale un burro cacao ragazzi che usavo mentre studiavo e andrà in mezzo al mio cofanetto del burro cacao qui abbiamo un giallo per la stampante che non andrà più qua un metro che ridarò a mio babbo tutto il porta post-it questi sono comodissimi da portarsi dietro quindi lo terrò altri post-it vari di vario genere questi ragazzi sono di tiger e mi piacciono un sacco per evidenziare a che pagina sono arrivata da studiare o tutte queste cose qua quindi li terrò come terrò tutti i soliti post-it qui abbiamo un tappo ridotto male lo mettiamo via l'altro lo mettiamo a una bic solite due matite ah raga queste matite della carandace sono le migliori sia come matite colorate sia come matite normali quindi io ve le straconsiglio un'altra chiavetta molto bene e questo non ci serve questo non so di cosa sia lo buttiamo e questa la teniamo ok andrò quindi a mettere in questo cofanetto tutti i miei post-it andrò a mettere in questa scatola tutta la roba da poter finire entro quest'anno e infine andrò a mettere in questa scatola molto più grande tutte questo è il mio astuccino e va bene andrò a mettere in questa scatola molto più grande tutte le cose di cartoleria varia e meno importanti quindi tutte quelle che abbiamo considerato prima ok ragazze una scatola post-it roba di cancelleria da usare durante questo anno il mio astuccino che dovrò cambiare poi vi farò vedere e tutti i miei stabilo sistemati io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un pollice in su mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi back to school e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie.